Oggi la card di Pasqua Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Dopo tanti lavoretti creativi fermiamoci un attimo per creare una card un biglietto per augurare i migliori auguri di Buona Pasqua Che ne dite di un biglietto sorpresa con qualcosa di inaspettato al proprio interno? E allora questa è la card che fa per voi Prima di passare al tutorial però permettetemi di ricordarvi Se volete aiutare Arte per te contribuendo in maniera fattiva potete farlo attraverso il pulsante Paypal che troverete sulla home page del canale Sappiate che tutti i vostri contributi verranno reinvestiti esclusivamente sul canale per apportare migliorie allo stesso Io vi ringrazio se vorrete farlo ma non vi preoccupate assolutamente se non potete o non volete farlo Anzi vi ringrazio lo stesso perché siete stati fino a questo momento ad ascoltarmi Se invece volete aiutarmi moralmente lasciate un pollice in su una condivisione a questo video Venitevi ad iscrivere sul mio Instagram Trovate il link qua sotto in info box Comunque basta cercare Arte per te su Instagram Ed esce il pennello bianco su fondo rosso Vi aspetto anche là Vi aspetto su Facebook Arte per te Pennello bianco su fondo rosso Il logo è sempre lo stesso E se volete spaziare in argomenti vi aspetto anche sui miei altri due canali 2Q1K il canale di cucina che ho insieme a mio merito Gabriele E Ombretta il mio canale di lifestyle dove si parla di tutto un po' Basta parlare andiamo a preparare il biglietto E allora spostiamoci sul piano da lavoro E andiamo a vedere il biglietto ovetto o coniglietto Come si fa? Ed ecco l'occorrente per fare la card dedicata ai più piccini Quella che ci divertiremo a fare con i nostri figli Che prepareremo magari per i nonni Che ci rimangono sempre un po' male Quando i bambini portano il biglietto e il regalino per mamma e papà E per loro Non ci ha pensato nessuno E allora pensiamoci per tempo Pensiamo ai nonni E facciamo fare un bel biglietto creativo ai nostri bimbi Cosa ci servirà? Della colla che può essere anche la colla in stick Io qui l'attacca tutto per fare prima Mi chiedete sempre dove trovo l'attacca tutto? Io la trovo in un negozio fisico In una ferramenta Ma voi la potete trovare qui giù dove c'è la scrittina mostr'altro Vi metto il link perché la trovate anche su Amazon Poi delle forbici Una matita Dei colori A seconda con cosa sono abituati a colorare i vostri figli Fateli colorare Perché questa è una card disegnata Io userò insieme a voi Perché mi pare proprio il caso di usarli in questo tutorial I dual tip brush pen che ho preso su Amazon appunto I pennarelli a doppia punta per intenderci Che hanno una bellissima coloritura Sono molto facili da usare Così vi faccio vedere anche come colorano E vi lascio anche di questi il link qua sotto Costano pochissimo 100 pennarelli a pochissimo prezzo Adesso non ricordo quanto perché li ho comprati un paio di mesi fa Un cartoncino da recupero per fare la sagoma del nostro bigliettino È un cartoncino che invece abbia Questa è una carta della Lidl Dei set crelando per scrapbooking A me serve una carta che abbia dei colori pasquali Che siano allegri Che faccia già fantasia da sola Perché il bigliettino fuori esternamente sarà molto semplice E che l'interno sia bianco Quindi iniziamo subito Come prima cosa sul cartoncino da recupero Disegnerò mezzo uovo Voilà E vado a ritagliarlo Il mio è alto un 18 cm circa Adesso prendiamo il mio cartoncino E lo piego in maniera tale Che le strisce vengano un po' trasversali Quindi lo piego così Le strisce trasversali sono più belle su un uovo Quindi la parte unita Questa Facciamo in modo che sia la parte più sottile Quella di sopra Uno Giro E due Ok adesso ritaglio l'uovo Segno la metà Vabbè che ce l'avrò sempre a portata di mano con la sagoma Ma io la segno per sicurezza E voilà Quello che abbiamo è questo bell'uovo di Pasqua Che già di per sé è un bigliettino Già molto molto carino A questo punto Apro il mio bigliettino Apro il mio bigliettino Metto la mia sagomina Qui E con un righello Segno 5 cm Così E poi assolutamente ad occhio Segno Una linea A questo punto E tiro giù La diagonale Su questa linea Con un bulino Che non vi avevo detto all'inizio Perché non è fondamentale Potete utilizzare anche una penna scarica Piuttosto che un qualunque oggetto appuntito Pratico Una piega Così In modo che Questa parte qua Si pieghi agevolmente Mentre Questa parte qui La apro Ritagliandola A questo punto Abbasso E mi segno L'attaccatura Per capire Dove finisce La parte superiore Con la matita Disegno Il mio coniglio Così Adesso Ripasso tutto Con una penna Adesso Prendiamo Un po' di colla E appiccichiamo Questa parte Che deve rimanere Fissa Sul nostro biglietto Ora Queste Qui Devono diventare Le orecchie Del nostro coniglio Quindi Dobbiamo dare La tipica forma Con l'interno rosa In modo che Quando lo aprano Tutti siano Sorpresi Dal ripieno E quindi Anche qui E adesso Coloriamo Ciao A questo punto il nostro bigliettino è pronto basterà chiuderlo e regalarlo ai nostri nonni quando lo apriranno troveranno all'interno una simpatica sorpresa ad aspettarlo io però scriverei un bel buona pasqua sull'orecchio del coniglio in modo che aprendolo il nonno o la nonna o a chi vogliate regalarlo possa trovare la scritta benaugurante quindi sempre con la penna su una delle due orecchie a mo' di tatuaggio e voilà il nostro bigliettino è bello e pronto semplice semplice per essere regalato ora non è adorabile? guardate l'ovetto che diventa coniglietto vi lascio alle foto e ci vediamo subito dopo ciao ciao i conigli da sviluppare con la creatività e non da fare con le patate mi raccomando e allora e allora questa è la mia proposta per una card spiritosa divertente e un po' diversa dal solito spero che vi piaccia lasciatemi tanti pollici in su se è così e lasciatemi anche tanti commenti qui giù in modo che potremo augurarci buona Pasqua per iscritto io vi ringrazio sempre per i vostri commenti do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti che sono tantissimi benvenuti in questa famiglia creativa vi aspetto tutti per il prossimo video passate una felice preparazione alla Pasqua e noi ci rincontriamo sempre qua per il prossimo video ancora con nuove idee Pasqualizie da Ombretta e da Arte per te è tutto alla prossima volta ciao